Ciao bambini! Che fame che ho! Sento proprio brontolare il mio pancino! Tu che cosa mangi oggi di buono? La mamma mi prepara sempre le verdure, però non è che mi piacciono proprio tutte e tutte, ma alcune sono speciali. Ti faccio vedere quali sono le mie verdure preferite. Allora, la prima è qui che sta bollendo nella pentolona. Vediamo, vediamo. Che profumino! Mi piace un sacco e poi ha un colore bellissimo e fa proprio venire voglia di mangiarlo. Ti faccio vedere cos'è. Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo! Il mais! Mi piace tanto! Molto molto buono! Davvero davvero! E poi vediamo cosa c'è ancora che bolle nelle pentole oggi. Allora, ecco un'altra pentola che sta bollendo con le super carotone! Buone anche queste! Sono buonissime anche queste! Buone le carote! E poi l'ultima cosa che la mamma mi ha preparato... Mmm, ma che cos'è? Mmm, è gigante! Ah, ho capito! È un porro! Buono! Sai, si può anche mettere nell'insalata, è davvero molto molto buono! Beh, adesso io, il porro, la carota e il mais, andiamo a pranzo! Anche tu, mi raccomando, mangia le verdure che ti fanno davvero tanto, tanto, tanto bene! Ciao!